Il mondo è veramente un posto tremendo. Violenza, sopraffazione, povertà... Solo tu puoi capirmi. Ciao a tutti e benvenuti nel canale video della Maschera Riposta. Io mi chiamo Mosè e in questo video vi voglio dire cosa ne pensiamo di The Elder Scrolls V Skyrim, il quinto capitolo di una delle saghe più famose e più celebri del gioco di ruolo per computer. Skyrim è uscito nel 2011 ed è appunto il quinto capitolo della saga The Elder Scrolls. È uscito dopo Oblivion, che fu un grande successo, il quale a sua volta era uscito dopo Morrowind, altrettanto grande, grandissimo successo. È questa una delle saghe appunto più amate e anche più discusse, va detto, fra gli appassionati del gioco di ruolo digitale e per il suo approccio un po' strano, diciamo, alla interpretazione su schermo. Questi giochi, pur avendo un comparto narrativo, talvolta anche interessante, talvolta anche toccante temi di una certa importanza, di una certa profondità, fanno del loro punto di forza non il comparto narrativo, non i contenuti, bensì il mondo. Il mondo è il vero protagonista di questi giochi, infatti noi amiamo chiamarli i giochi world-driven, nel senso che questo mondo, il mondo in cui sono ambientati questi giochi, è descritto nella sua interezza ed è descritto principalmente tramite elementi simulativi. Quindi, per esempio, ogni personaggio non giocante vive in un determinato luogo, in una determinata casa dentro cui si può entrare. Quel personaggio ha una certa routine, quindi, almeno a partire da Oblivion, questo è stato sempre un punto debole, diciamo, nei primi episodi della saga, insomma, adesso invece è un punto di forza, no? Quindi alla mattina si sveglia, va al lavoro, magari la sera va nella taverna, poi si sposta verso casa sua, va a dormire, va bene? E tutti gli edifici, appunto, sono perfettamente interagibili in ogni loro punto. Si possono raggiungere tutti i luoghi rappresentati dal paesaggio, quasi. Non ci sono mura invisibili, se non nei limiti esterni, diciamo, del mondo di gioco. E il sistema di crescita delle abilità del personaggio, questo è un punto su cui noi insistiamo sempre molto, dà ragione di qualunque azione, slegandosi, essendo slegato, dall'ottenimento di punti esperienza. Questo è forse, appunto, uno dei punti più importanti. In generale, nei giochi di ruolo, la crescita e lo sviluppo del personaggio viene determinata dall'acquisizione di punti esperienza. E i punti esperienza si acquisiscono, in genere, completando le missioni. Cioè, uccidendo creature, ma anche completando missioni. Quindi nel momento in cui io interpreto un personaggio a cui viene proposta una missione, se rifiuto di portare a termine quella missione, mi sento come se stessi rinunciando alla possibilità di potenziare di più il mio personaggio. Quindi è come se ci fosse l'obbligo non scritto di accettarle le missioni, di accettarle le quest. Perché se non le accetto mi perdo qualcosa, in termini di potenziamento, di sviluppo del personaggio. Questo concetto è del tutto assente nei giochi della serie di Elder Scrolls, perché nei giochi della serie di Elder Scrolls i punti esperienza non esistono. E il nostro personaggio aumenta di livello utilizzando le sue abilità. Quindi, se utilizzo la spada diventerò più bravo con la spada, se utilizzo l'arco diventerò più bravo con l'arco, eccetera. Quindi non conta il motivo per cui io sto usando la spada o l'arco, conta il fatto che io li sto usando. Questa è una grande rivoluzione, se ci pensate, nell'approccio. Io posso dire di no a chiunque mi proponga missioni, ma se il mio personaggio va a caccia continuamente per gli affari suoi con l'arco, diventerà un bravissimo arciere, esattamente come se avesse combattuto per risolvere le missioni che gli sono state assegnate. Quindi in questi giochi diventa possibile appunto darsi alla simulazione, interpretare il ruolo di un turista, di un viaggiatore, di un mercante, di un cacciatore, senza preoccuparsi appunto di invischiarsi, diciamo, nelle tematiche toccate dalle missioni, oppure alternando a momenti in cui ci si fa coinvolgere e a momenti in cui non ci si fa coinvolgere e ci si dedica ad attività appunto prettamente simulative, l'esplorazione, l'arredamento della propria casa, addirittura la costruzione della propria casa, funzionalità introdotta da una delle espansioni di Skyrim. Quindi si tratta di giochi in cui letteralmente perdersi, va bene? Proprio la struttura di questi giochi fa sì che al loro interno si possano passare decine, centinaia, migliaia, oserei dire, di ore di divertimento. Quindi questa che abbiamo fatto finora è un po', abbiamo un po' tratteggiato la caratteristica di tutti i giochi appartenenti a questa serie. Andiamo invece un po' più in profondità riguardo a quello che rende Skyrim speciale e diverso rispetto ai giochi precedenti appartenenti alla stessa serie, sempre tenendo presenti solamente i giochi canon. Questa serie ha avuto anche degli spin-off, il più importante è The Elder Scrolls Online, di cui voglio parlarvi, quindi in futuro sicuramente faremo dei video anche dedicati a The Elder Scrolls Online, perché pur essendo uno spin-off, pur avendo un approccio del tutto diverso, pur non rientrando minimamente in questa filosofia di cui abbiamo parlato finora, è comunque un prodotto veramente mirabile, va bene? Quindi è un prodotto che chi ama questa ambientazione, insomma, dovrebbe pensare di provare. Ma soffermiamoci su Skyrim. Allora, quali sono le novità più importanti introdotte da Skyrim rispetto ai capitoli precedenti della saga? Concentriamoci sugli aspetti positivi. In cosa Skyrim migliora, secondo noi, l'approccio a questa interpretazione? Beh, intanto il solo fatto che Skyrim rientri ancora alla perfezione nel quadro generale che abbiamo descritto prima, è un'ottima cosa, va bene? Perché il sottoscritto, non so se condividete questa cosa, ogni volta che viene annunciato un Elder Scrolls ha il terrore che Elder Scrolls perda la sua unicità, no? Perché purtroppo alcuni passi nella direzione, non so se sono io che sono ossessionato, può essere, ma io in Skyrim riconosco alcuni passi, diciamo, che vanno verso la direzione della, magari non della perdita dell'identità, ma comunque della contaminazione della sua identità. Vabbè che al giorno d'oggi tutti i prodotti sono contaminati, però ecco, secondo me è importante che il mercato offra tante opzioni. E almeno quello che la mia esperienza mi dice è che non esistono giochi che offrono l'approccio interpretativo dei giochi Bethesda. Vabbè, non ne esistono altri. Quindi mi dispiacerebbe se questo tipo di approccio venisse perso, no? Comunque approfondirò meglio questa cosa quando parlerò dei difetti, eh. Scusate, ogni tanto guardo il cronometro perché voglio vedere se riesco a stare nella mezz'ora, no? Che è il limite di registrazione, perché c'è tanto da dire riguardo a questo gioco. Spero di riuscire a restare nei tempi senza dover fare poi magheggi in fase di montaggio e di rimanere semplicemente nei tempi previsti dal minutaggio della videocamera. Allora, quali sono appunto gli elementi che Skyrim migliora? Torniamo a bomba, torniamo a quello che stavamo dicendo prima. Beh, sicuramente l'elemento che Skyrim migliora rispetto a Oblivion è la descrizione del mondo, intesa proprio come concretizzazione del mondo proprio a livello, a livello proprio di geografia fisica. Il mondo descritto da Skyrim è veramente, veramente affascinante, interessante, credibile. Rispetto a Oblivion utilizza molto di più la dimensione verticale, complice anche, diciamo, il fatto che siamo in un ambiente montuoso, come potete vedere. Però, ecco, riesce anche rispetto a Oblivion ad avere molta più varietà, va bene? Guardando questa confezione, guardando magari, conoscendo così vagamente il tipo di ambientazione davanti a cui ci troviamo, potreste avere il sospetto che si tratti di un gioco un po' monotono, no? A livello cromatico, a livello visivo, montagne innevate, picchi, vallate. In realtà non è così. Il gioco veicola diverse ambientazioni in maniera molto, molto appropriata. C'è una parte più autunnale, c'è una parte caratterizzata dai geyser, c'è una parte dove le città, ci sono questi insediamenti costruiti su costoni di roccia, quindi riesce comunque, ci sono parti dove c'è molta acqua, parti che sono invece più verso l'entroterra, cioè è un mondo molto vario, molto ben descritto dal punto di vista appunto della geografia fisica, molto meno monotono, molto più vario, molto più piacevole da esplorare rispetto al Sirodill di Oblivion, quindi questo sicuramente è un passo avanti. Anche il Sirodill di Oblivion, eh, aveva comunque, stiamo parlando sempre di prodotti che per quanto ci riguarda sono dei non plus ultra nel modo in cui veicolano l'esplorazione, ricordiamocelo sempre, però da questo punto di vista Skyrim ha fatto molti passi avanti, proprio nel modo in cui il mondo viene rappresentato, no? In tutta la sua varietà, va bene? Anche nel modo stesso in cui sono progettati i dungeon, per esempio, sono molto più vari, molto più ricchi di twist rispetto a Oblivion e ancora di più rispetto a Morrowind. Ci sono delle trappole molto creative, dei modi per utilizzare anche l'ambientazione, no? È possibile per esempio incendiare queste pozze tipo di olio, ci sono nemici che sembrano addormentati e poi si svegliano, insomma ci sono parecchi altri che magari escono, no? Da tipo dei punti chiusi, dalle pareti. Quindi ecco, il modo in cui anche si interagisce col mondo e con le creature ostili è sicuramente migliorato, va bene? Poi, forse mi verrebbe da dire che è più interessante anche l'aspetto narrativo, forse mi verrebbe da dire anche questo, anche le tematiche affrontate dalla narrazione sono a tratti veramente interessanti e veicolate in modo, non voglio soffermarmi troppo su questo per evitare spoiler, però insomma il gioco affronta temi che sembrano più... Allora, anche l'invasione demoniaca di Oblivion era più di un'invasione demoniaca, va bene? Ed era riduttivo definirla un'invasione demoniaca. Però ecco, l'invasione dei Dragon Skyrim è trattata in maniera ancora più adulta, in maniera ancora più sfaccettata e può essere descritta come un qualcosa di inevitabile anche da un punto di vista etico e morale, e questo è interessante, è molto interessante senza voler appunto approfondire troppo la questione. Poi un altro elemento di pregio è sicuramente il fatto che Skyrim introduce nuovi elementi di simulazione che arricchiscono la simulazione rispetto a Oblivion. Alcune funzionalità che in Oblivion dovevano essere innestate da mod sono presenti in Skyrim Vanilla, sono presenti nello Skyrim Base, quindi per esempio la possibilità di disporre i libri sugli scaffali delle librerie, per dire, no? Ho già accennato prima il fatto che una delle espansioni introduce la possibilità di costruirsi la casa, questo è molto bello, va bene? C'è la possibilità di sposarsi, questa, insomma, la possibilità di sposarsi è veramente descritta proprio ai minimi termini, va bene? Però questa espansione che permette di costruire la casa permette anche, tipo, di adottare bambini, seguirli mentre giocano, va bene? Anche questo è sempre svolto tutto un po' ai minimi termini, l'interazione fra personaggi è molto riduttiva se la paragoniamo a quello che avviene nei giochi che si concentrano molto su quello, no? Tipo i giochi Bioware, va bene? Quindi non pensate che qui ci possa essere quel tipo di interazione con i personaggi non giocanti. Però, insomma, è interessante il fatto che Bethesda abbia fatto questi esperimenti che spesso si inseriscono molto bene all'interno della simulazione e dell'elemento, appunto, forse più importante in assoluto. Poi, beh, un altro elemento veramente geniale è sicuramente l'introduzione dei draghi. I combattimenti con i draghi sono a tutti gli effetti combattimenti contro dei boss che vengono generati però casualmente dal gioco, in momenti random, no? E il loro comportamento nel mondo e la loro interazione col mondo è veramente qualcosa di mai visto prima. Cioè, immaginatevi questa scena, il nostro eroe sta esplorando tranquillamente per gli affari suoi, no? In un bosco, tipo, e improvvisamente sente questo ruggito in cielo e a quel punto compare il drago che potrebbe anche essere, attenzione, se il nostro personaggio decide di tenere il profilo basso, il drago potrebbe anche se volazzarci un po' sulla testa e poi andarsene verso chissà quale destinazione, va bene? Oppure se il nostro personaggio decide di fare il gradasso e di cercare di ingaggiarlo subito, il drago a sua volta ci attaccherà e ci attaccherà dal cielo con il suo fiato infuocato, con le sue parole, perché tematicamente i combattimenti fra draghi sono discussioni, sono vere e proprie discussioni in lingua draconica e il nostro personaggio, il nostro alter ego, avrà proprio questo grande privilegio nel corso del gioco, quello di imparare la lingua dei draghi e quindi imparare la possibilità di combattere come i draghi attraverso la parola, diciamo, attraverso il fiato potremmo dire. E il drago combattendo con il nostro eroe potrà atterrare e atterrando lascerà delle tracce sul terreno, potrà lanciare il suo fiato infuocato verso di noi a terra incendiando l'erba, se riusciremo a ferirlo mentre vola precipiterà il suolo modificando la conformazione del terreno. Tutto questo all'epoca veramente lasciò tutti a bocca aperta. Se il drago attacca mentre il nostro personaggio è in un villaggio farà scappare tutti, si accuccerà sopra le case, si accuccerà sopra gli elementi dello scenario per cercare di attaccare il nostro eroe o gli altri personaggi. Guardate che tutto questo è veramente, cioè, il fatto che tutto questo sia generato in maniera potremmo dire procedurale dal gioco e non sia scriptato, non sia appunto previsto in determinati momenti nei quali lo scenario è messo appunto in funzione del fatto che ci sarà un drago, no? Pensate agli scenari in cui si combatte contro i draghi nei giochi Bioware, per dire, no? Nei giochi della serie Baldur's Gate o in Pillars of Eternity, no? Capisci che stai per combattere un drago perché arrivi e c'è un grande spiazzo, va bene? C'è un grande spiazzo, c'è il posto, no? Praticamente per il drago, pensate come è come è artificiosa, no? Questa cosa. Qui i draghi appaiono in ogni punto e usano lo scenario in maniera assolutamente coerente, va bene? Lo usano proprio fisicamente lo scenario in maniera assolutamente coerente. Questa è una roba veramente incredibile, va bene? Quindi c'è tanto di bello e di positivo da dire su questo gioco. Tocca però dire che dal nostro punto di vista c'è anche qualcosa di negativo che si può dire su questo gioco. Sapete che forse adesso mi si scateneranno contro molte critiche, ma sono abituato perché si scateneranno molto spesso quando faccio affermazioni importanti, diciamo, ma io credo che, cioè dal punto di vista proprio del godimento generale del gioco, Skyrim è, fra gli ultimi tre Elder Scrolls, forse quello che mi diverte, pur divertendomi tantissimo, forse è quello che mi diverte di meno. Per alcuni, per alcuni motivi, che adesso cercherò di spiegarvi, ma sono già passati 15 minuti, quindi devo fare abbastanza presto, va bene. Allora, quali sono questi elementi problematici? Allora, primo elemento problematico, l'interfaccia. L'interfaccia di gioco fa pena, va bene? In particolare il diario, signore e signori, fa veramente pena, va bene? Descrive le missioni con delle frasette totalmente decontestualizzate, va bene? Ha una sezione miscellanea piena di incarichi stupidissimi di cui non si sentiva il bisogno, non c'era mai stato prima di, prima di questo gioco, nella, nella, nella storia dei Elder Scrolls, questo diario con la scelta, cioè tutto questo coacervo di missioni stupide porta 10 Fire Souls a quello, porta 20 pietre a quell'altro, porta 5, porta quel libro là, porta questa roba, no, queste cose, Bethesda per cortesia, per somma cortesia, va bene? Non abbiamo bisogno di questi input idioti per esplorare il vostro mondo e anzi arriverò a dirvi questo, se pensate che il vostro mondo abbia bisogno di questi input idioti per essere esplorato, vuol dire che voi stessi siete molto insicuri riguardo alla qualità del vostro mondo e non del mondo che avete creato e non dovreste esserlo, va bene? Perché i mondi che create sono mondi molto belli che è un piacere esplorare per il gusto di farlo, no? Perché devo cercare 10 pietre da dare a tizio o 5 libri o piante da dare a Caio, va bene? Ecco, tempo mezz'ora, due ore di gioco, avrete il diario letteralmente colmo di queste stupidissime missioni, va bene? Come se fosse una lista della spesa, questo è veramente fastidioso, ok? Questo ci porta all'altro problema, Skyrim, ahi noi, ed è il primo gioco dopo Daggerfall ad avere questo problema, va bene? Quindi sembrava che dopo Daggerfall il problema della generazione procedurale, casuale dei contenuti, Bethesda l'avesse messa da parte, no, l'ha messa da parte per un po', c'è stata una parentesi di gioia e di soddisfazione, adesso siamo tornati nei tempi bui della generazione casuale procedurale, va bene? Molte delle missioni che ci vengono assegnate in questo gioco sono missioni radiant, come le chiama il gioco, per darsi un tono, vuol dire che sono missioni procedurali, va bene? Vai, ammazza il capo dei banditi in quella grotta, procurami quella roba da là, ruba quella roba anche le missioni collegate a certe gilde, per esempio nella gilda dei ladri, uno spera di entrare nella gilda dei ladri perché ci siano dei furti, no, epocali da portare a termine, ce n'è qualcuno collegato alla trama principale, ma neanche tanto, perché la trama principale parla di tutto tranne che di furti, va bene? Però i furti che dobbiamo fare sono stupidissime missioni generate casualmente, va bene? Questo è un problema gravissimo ed è un problema che nessun, a cui nessun mod riesce a porre rimedio, cioè il massimo che possiamo fare, almeno che io sono riuscito a fare attraverso un mod, è aver, cioè vengono etichettate come tali le missioni radiant, va bene? Quindi il diario ci dice attenzione questa è una missione radiant, però comunque la missione rimane lì, capite che questo è un incubo per il completista, rimane lì, quindi se uno vuole avere il diario libero pulito, è costretto a fare ste missioni radiant stupidissime, ste missioni casuali, va bene? Allora, il gioco, l'intrattenimento digitale, ogni videogioco alla fine si risolve nella illusione di aver costruito qualcosa, di aver completato qualcosa. Se tu programmatore mi dai incarichi infiniti che io non potrò mai portare a compimento nella loro interezza, tu praticamente stai condannando il tuo gioco a essere un non gioco, perché è diventa qualcosa di irrisolvibile, va bene? Quindi io non mi capacito di come questa roba sia possibile e di come ci sia gente che apprezza il contenuto generato in maniera così procedurale e infinita, va bene? No, perché? Perché non è che siamo in un'isola deserta e questo è l'unico gioco che abbiamo a disposizione, è pieno di roba che dobbiamo giocare, va bene? Quindi dateci del contenuto scritto per favore, dove dietro ci sono state delle persone che hanno sceneggiato una determinata quest in un certo modo e che ci danno la possibilità di godere del loro talento. Dateci questo per favore, va bene? Quando avremo finito tutte le vostre missioni saremo felicissimi e daremo un giudizio positivissimo al vostro gioco. Non saremo tristi perché l'abbiamo finito, va bene? Non siamo deficienti, se vogliamo rigiocarlo magari lo rigiochiamo, se no passiamo ad altro, non ci interessa avere giochi che non finiscono mai. Scusate fine del rambling, ma questo è un tema che mi sta veramente a cuore. Quindi questo è un problema molto grave in questo gioco secondo noi, va bene? Non è un'opinione condivisa da tutti, quindi mi raccomando non prendete quello che diciamo nei nostri video come una verità assoluta in generale, ma soprattutto quello che diciamo noi, perché quello che diciamo noi è frutto di critica di opere dell'ingegno e non c'è niente di più opinabile delle critiche fatte alle opere dell'ingegno, va bene? Quindi questo è un altro grande problema. Un altro problema di Skyrim è il fatto che i programmatori non si sa bene perché, strano motivo, hanno deciso di rimuovere completamente le caratteristiche del personaggio. Quindi il nostro personaggio non è più definito da forza, agilità, luck, carisma, come in tutti i capitoli precedenti della saga, è definito solo dalle sue abilità, va bene? Questo è veramente, cioè, perché? Non mi sarei mai sognato di definire troppo complesso e necessitante qualche semplificazione il sistema di gestione del personaggio dei giochi precedenti di questa saga. Ci sono giochi che godrebbero di qualche semplificazione? Un gioco come Pillars of Eternity per dire è inutilmente contorto, no? Inutilmente complesso nel suo sistema di gestione del personaggio. Non era assolutamente il caso per i giochi di questa serie. Quindi nessuno, penso, abbia mai sentito il bisogno di vedere il sistema di gestione del personaggio così castrato com'è in questo gioco, privo delle caratteristiche. Questo porta a tutta una serie di conseguenze anche molto controintuitive, no? Per esempio, nei giochi precedenti si aumentava la forza per aumentare il peso trasportabile, va bene? Adesso non c'è più la forza, quindi come lo si aumenta il peso trasportabile? Aumentando la stamina, perché ogni volta che si sale di livello dobbiamo scegliere se aumentare la salute, il magica o la stamina, va bene? Che è l'energia, no? Che gestisce la quantità di colpi che possiamo per esempio dare con le armi. Ecco, a quello è collegato il peso trasportabile, perché? Va bene? Quindi se io voglio fare un personaggio accumulatore di oggetti, devo per forza devo per forza aumentare la sua stamina, perché? Poi, perché aumentare direttamente la magica è veramente riduttivo, no? La potenza della magia. Nei giochi precedenti la magica era determinata da diverse statistiche, no? Che entravano da diverse caratteristiche che entravano in combinazione fra loro. Perché questa roba qua? Boh, non lo so. Cioè, è bella l'idea di ottenere un perk. Quello è piacevole, no? Un'altra novità introdotta dal gioco è che quando si sale di livello si ottiene un perk che aumenta la nostra abilità in combattimento o anche in ambiti non necessariamente collegati al combattimento. Quella è una bella idea, no? Un po' mutuata da Fallout, se vogliamo. Però perché questa idea si è dovuta accompagnare alla scomparsa delle caratteristiche del personaggio? Boh. Oppure il segno zodiacale. Il segno zodiacale era una scelta importantissima, no? All'inizio dei giochi precedenti della serie. Invece qua il segno zodiacale non ce lo fanno neanche scegliere e diventiamo di un segno zodiacale attivando la relativa pietra che troviamo in giro per il mondo. Ma che senso ha? Il segno zodiacale ce l'abbiamo per nascita, non è che lo attiviamo premendo un bottone e poi se non ci piace più premiamo un altro bottone e cambiamo segno. Cioè capite che questa roba proprio va contro tutta la lore, il background costruito dai capitoli precedenti. Quindi questo è sicuramente un altro appunto debole. Poi personalmente non apprezzo per nulla il sistema di dialogo. Il sistema di dialogo, cioè il dialogo non ferma lo scorrimento delle azioni, non cambia neanche la visuale. Cioè dialoghiamo così normalmente mentre il mondo continua a scopo qualcuno, boh, Bethesda si è vantata di questa cosa, vedendola come un qualcosa di meno artificioso rispetto a prima. Secondo noi è esattamente il contrario. Adesso è più artificioso. Cioè adesso stai dicendo a un fabbro che suo figlio è morto, va bene, e il fabbro nel frattempo lima, così, nell'attrezzo per limare, per affilare le lame, va bene, lui continua a affilare le lame. Ah sì, ah, oh mio Dio, sono dispiaciutissimo, e intanto continua a affilare la lama, va bene. Boh, cosa c'è di realistico in questo? È molto meglio, poi tra l'altro quando un programmatore cita il realismo come ragione di una sua scelta vuol dire che è alla canna del gas proprio, perché i giochi sono, come dire, devono dare l'illusione di un certo quale realismo, ma alla fine tutto quello che si fa è un'astrazione, no? Quindi viva il sistema di dialogo che blocca tutto e ci permette di concentrarci sul dialogo e che magari zooma anche sul volto del nostro interlocutore, così da rendercelo familiare, no? Adesso non c'è più questa cosa per cui si zooma sul volto, non vediamo più l'espressione in maniera chiara, se non mettendoci noi prima in prima persona e guardando il personaggio da vicinissimo. No, questa cosa, anche questa cosa non ci è piaciuta, va bene? Quindi vedete, alla fine questo è un grande capolavoro, è un grande capolavoro, non ci sogneremmo mai di non definirlo un capolavoro, eppure è un capolavoro nel quale alcune scelte sono discutibili. Ecco, l'ultima cosa, anche perché il mio tempo sta per scadere, l'ultima cosa che voglio dirvi è che ci sono qui, in questo gioco, alcune quest con biforcazioni reciprocamente escludenti e questa è una cosa molto seccante, secondo me, in un gioco di questa categoria. Allora, in un gioco di questa categoria, questo sarebbe un discorso che potenzialmente potrebbe essere molto lungo, quindi qui lo ridurrò veramente all'osso, il bello di questa serie di giochi è il poter, come dicevo prima, accettare o rifiutare le missioni. È così che il mio personaggio costruisce la sua identità, va bene? Ecco perché prima ho detto che secondo me in Skyrim c'è qualche traccia del fatto che i programmatori vogliono un po', hanno voluto un po' mischiare la loro identità con l'identità dei giochi story driven, va bene? Perché ci buttano addosso queste quest, non dandoci la possibilità di rifiutarle e, come dire, dandoci la possibilità di effettuare la nostra interpretazione attraverso scelte in queste quest. No signori, non è così che devono funzionare i giochi della serie di Elder Scrolls. I giochi della serie di Elder Scrolls sono come un menu, va bene? In questi giochi c'è un menu, all'interno del quale io scelgo e in base alle scelte che faccio in questo menu, questa missione la voglio fare, questa missione la voglio fare, questa missione non la voglio fare, definisco il mio personaggio. Hanno sempre funzionato in questo modo questi giochi, va bene? Se voi invece mi costringete a accettare tutte le missioni e poi mi date modo di scegliere una strada o un'altra mentre risolvo la missione, voi state riducendo drasticamente le opzioni interpretative per il mio personaggio all'interno del vostro mondo, va bene? Perché le scelte scriptate non saranno mai così ricche di opzioni come le scelte che fa il mio personaggio in completa autonomia, va bene? Questo è un concetto fondamentale che mi spiace non poter approfondire, però penso di aver spiegato in maniera sufficientemente plausibile e comprensibile. Questo è quello che pensiamo di Skyrim. Fateci sapere cosa ne pensate voi nei commenti sotto al video e se vi è piaciuto questo video lasciateci un like e se vi piacciono i nostri contenuti iscrivetevi al canale, cliccate anche sulla campanella mi raccomando così da non perdere le notifiche. Mosè dalla Maschera Riposta insieme ad Alduin vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video. Ciao ciao! Iscriviti al canale